Questa mostra porta tutti i disegni che sono stati realizzati all'interno di un progetto che l'Associazione Don Paolo Tonucci a Pito porta avanti da oltre un anno. Il progetto è il piacere di conoscerti, storie vere ed emozioni dal mondo. Abbiamo scelto proprio un linguaggio senza parole per favorire la conoscenza e la relazione anche con le persone con cui è difficile proprio parlare per una questione di lingua. Sono tante le lingue che ospitiamo qua in nostra provincia. Quindi la Pito per far conoscere alla cittadinanza questa realtà e cercare nel suo piccolo di integrarla ha organizzato questa mostra che si tiene alla Sala San Michele, gentilmente dataci dalla Fondazione Cassa di Risparmio, dal 12, quindi domani, domani 12 dicembre fino al 20, sarà aperta tutti i giorni, certamente al pomeriggio, nei weekend anche alla mattina e domani 12 punto alle 17 avremo l'inaugurazione di questa mostra, la presenza delle autorità civili e religiose di Fano e all'interno di questa mostra presenteremo anche il nostro calendario, l'Apito 2016, che come tutti gli anni si fa riferimento alle attività svolte nell'anno, quindi ci sembrava giusto quest'anno dedicarlo proprio a questi amici richiedenti asilo che sono qui ospitati da noi. La mostra starà aperta tutta la settimana e durante la settimana avremo modo di conoscere anche le associazioni che con noi lavorano in rete all'interno del forum dell'immigrazione voluto dall'assessorato ai servizi sociali di Fano. In particolare domenica alle 18 Enzo Vecchiarelli e Marco Florio presenteranno i canti dell'immigrazione, un sunto di uno spettacolo più ampio che è stato fatto recentemente a Fano.